Diminuisci volume Fai partire la musica Aumenta volume Apri film Apri YouTube Apri Bluetooth Questi sono i comandi vocali Accensione luci Abbiamo recuperato anche i comandi al volante Stazione in memoria Questa è la home Gestione USB, audio e video L'abbiamo visto prima con i comandi vocali Facciamo un esempio Questa è la musica Gestione contenuti Oppure gestione cartelle A seconda delle cartelle che eseguite Stessa cosa per quanto riguarda La gestione video Ce l'abbiamo nella home Ecco qua video Qui sono i video Contenuti E qui andiamo a gestire le cartelle Adesso passiamo alla sezione Android Qui abbiamo il DSP Chrome Viale Palmiro Togliatti Come vedete abbiamo modificato la predisposizione originale Abbiamo inserito il 7 pollici Android 10 Qui abbiamo inserito i comandi del parcheggio Sport 4K Sport 4K Appa torna alla pagina iniziale questo è il prodotto android 10 4 gb di ram rom 64 gb gestione vocale display ps multitouch screen antiriflesso buon pomeriggio